allora laboratorio c'ho mille alcatrazze qua 1190 insomma raccattiamo anche quest'altri vediamo un pochino una volta solo ha mandato in tanti mesi dal 10 a un materiale in genere da sempre materiali tre stelle però una mille a caccia da botta vediamo un pochino che la botta di ulo sia con mer budello di soma vediamo qui non sono due trasformazioni di alcatraz beccare due tuniche sarebbe il top però vediamo un pochino la prima tunica e questa me la son chiamata è questa è chiamata poi vediamo un po no ora due tuniche a fila sarebbe cadere troppo davvero vediamo un pochino samida paladino millequattro via incantatore vai e anche oggi la botta di culo è stata con me un'altra tunica e poi anche le piota vola